pozzallo fuga di trenta extra comunitari dal centro di prima accoglienza aragusa si ruba alla piscina comunale i gnoti forzano la porta e ancora a pozzallo è morto l'ex sindaco Vincenzo Galfo lutto in città l'Italia dei valori a Scicli protesta contro l'amministrazione comunale sull'aumento della Tarso sempre Scicli palestra dell'ITC Silvio Galizia con Riccardo Terranova per parlare della palestra Scicli è ancora set di Montalbano arriva infatti di nuovo la produzione Paloma